Buongiorno a tutti, stiamo qui, benvenuti, siamo qui pronti, vi ascoltiamo. Questa è una grande esperienza, parleremo in inglese, in portoghese, in diverse lingue. Lei può scegliere la lingua, inglese, portoghese, spagnolo, secondo le opzioni che preferite. Questa opzione è disponibile nella parte superiore e dalla parte sinistra dello schermo. Possiamo iniziare. Cominciamo allora, io sono della fondazione Scratch, originariamente della costa Ovest e lavoro anche nel team Scratch. Ovviamente per me è un onore essere qui con voi e oggi siamo nel 2022 e io sono un gran fan di Scratch Lab, che rappresentando molte persone, dei team di lavoro, dei diversi distretti e dell'area centrale anche degli Stati Uniti. Lavoreremo con telecamere, con video e io so che con il mio team siamo molto ispirati per tutte queste iniziative. Vediamo inizio allora. Buongiorno a tutti, il mio nome è Carolina. Innanzitutto per la presentazione, e grazie Francesco per la tua presentazione, e dirò in portoghese buongiorno, il mio nome è Carolina. Sì, buongiorno, il mio nome è Carolina. E formo parte di questa famiglia globale che è Scratch. Il mio nome è Carolina. Lavoro col team pedagogico di Scratch Team e siamo parte di questa famiglia. Per me è un onore darvi il benvenuto a questa Scratch Conference per i designer e per molte persone. Stiamo parlando di più di 3.000 persone che sono presenti oggi in conferenze. Quindi vi diamo il benvenuto, vi invitiamo voi tutti a utilizzare, usare lo spazio del chat. E iniziamo, diamo inizio al nostro incontro per vedere i lavori fatti. Qui abbiamo diverse persone, qui posso vedere persone del Messico, della Colombia. Grazie mille a tutti voi, dove voi siate. Oggi, di questa conferenza, sarà organizzata da fondazioni. Avremo più di 100 persone di diverse parti del mondo in cui si parteciperà. Avremo una grande audience e con una grande energia. Avremo una grande conferenza, un grande incontro. Ora vi invitiamo a creare, vediamo cosa, per me è un po' difficile lavorare e parlare in inglese, ma Scratch non potrebbe esistere se non fosse presente la creatività, la creatività dei bimbi e l'esperienza che abbiamo avuto. Ci sono molte storie di come Scratch ha esplorato e ha partecipato con diverse comunità e contesti. La fondazione Scratch ha partecipato in questi momenti di apprendimento nelle diverse scuole. E per noi questa è un'ispirazione per poter condividere, questa è un'opportunità per essere collegati, per avere un'esperienza di apprendimento. Ovviamente è molto interessante e vi invitiamo voi tutti a immaginare e a condividere. Oggi per noi è una grande esperienza, quindi vi diamo il benvenuto. Se non potete rimanere tutta la seduta, non saltatele perché potete continuare a parteciparle quando vogliate. Possiamo anche, vi invitiamo anche a partecipare assieme a noi, avremo nuovi corsi, nuovi strumenti. Avremo due sedute sociali e avremo quattro round di collegamenti. In ognuna di queste sedute avremo incontri, avremo diversi argomenti e voi potrete partecipare pure. Ora siamo, vediamo, presentiamo i direttori della Fondazione, benvenuta, Shana, ciao Carolina, ciao Francesco, grazie a tutti voi per questo benvenuto. Sì, il mio nome è Shana, il mio nome è direttrice esecutiva della Fondazione Scratch. Grazie a voi tutti per essere qui presenti in questa seconda versione online. È molto bello essere oggi con voi. Stiamo parlando di più di 3.000 educatori che partecipano a questa conferenza Scratch. Benvenuti voi tutti. Questa conferenza è iniziata diversi anni fa come un'occasione e opportunità per gli educatori di partecipare tramite lo Zoom e la nostra fondazione, tramite la ricerca e anche come si conosce il gruppo Kindergarten. È una grande comunità di tutto il mondo con la Fondazione Scratch, con le sue lezioni, per poter avere un ambiente di apprendimento. Per me questo è molto interessante. Io sono stata professoressa delle scienze in North Carolina e mi piace molto partecipare in questa comunità di apprendimento e anche come insegnante considero che è molto importante essere presenti qui, poter parlare in un ambiente rilassato e speriamo che questo vada avanti per molti anni. Grazie a voi tutti per essere presenti in questa conferenza e poter condividere, creare, imparare. E condividere con noi questa conferenza ci dà a tutti noi una grande occasione di poter essere collegati educatori in tutto il mondo. Io so che spesso è difficile trovare una comunità e avere una possibilità di poter espandere il nostro mondo di conoscenze, e poter aiutare anche i nostri studenti perché possano imparare, continuare ad imparare. Speriamo che queste conferenze siano ispiratrici per poter avere un nuovo approccio di come possiamo, cosa possiamo dare ai nostri bambini con tutto ciò che è importante. Cioè avremo anche un'occasione di poter imparare da altri, da diverse parti del mondo, che non sono forse presenti oggi in conferenza, ma sì, celebreremo il nostro anniversario numero 50. Quindi sono 50 anni, bellissimi 50 anni, in cui abbiamo avuto passione, apprendimento. Stiamo iniziando, siamo ai primi passi. Voi sapete che la nostra missione è poter dare ai bimbi l'opportunità tramite strumenti digitali perché possano imparare, condividere, e alcuni di voi siete stati dall'inizio, quindi è molto interessante essere qui con voi, e talvolta per alcuni di voi sarà la prima occasione, e vogliamo accompagnarvi per poter iniziare questo viaggio di creatività in questo programma. Alcune cose. Voi sapete che talvolta più di 100 milioni di progetti sono condivisi con le nostre reti Scratch, e parliamo di 93 mila conti di bimbi Scratch, quindi per noi è un onore essere parte delle loro lezioni, dei loro club, grazie perché si appoggiate, perché condividete con noi questo modo unico di poter utilizzare Scratch durante questi anni. E come vi ho già detto e condiviso, abbiamo cominciato come un mini lab in MIT. si è partecipato in questo tipo di idee in diverse persone per poter arrivare ai bambini e poter arrivare alla loro creatività, sviluppare quella creatività, per poter aiutare i bimbi. È una grande ispirazione perché è un modo di poter imparare tramite il gioco, e un modo di poter credere in ciò che facciamo come educatori, e siamo orgogliosi che questa fondazione continui e vada avanti con questo lavoro che abbiamo iniziato 50 anni fa, con i nostri studio, con la nuova comunità, con i giovani che parlano di ciò che a loro proprio interessa, nelle loro lezioni, nei club, in tutto il mondo, dove utilizziamo lo Scratch Junior, con le diverse comunità locali, e come ho già detto prima, Scratch più che una piattaforma, è più che una piattaforma. Grazie a tutti voi, Scratch è uno strumento critico per poter imparare, per poter esprimere idee, per la diversità e per l'equità. Ora, molto più di prima, questo movimento è necessario. Voglio raccontarvi una storia riguardo una persona che ha partecipato nella conferenza Lego, e mi sono sentita molto ispirata, perché per lei l'apprendimento molte volte nelle sale deve essere qualcosa di serio. Però dobbiamo lavorare con una lavagna, cioè rimaniamo solo con questo, e non nella creatività, e non con ruoli. E lei ha chiesto agli educatori di cambiare il modo di come i bambini imparano nel mondo. Lei ci ha dato l'obbligo di pensare, dire, noi dobbiamo imparare attraverso, tramite la creatività, il gioco. E' quello che lei vuol vedere, tramite l'esperienza dei bambini in tutto il mondo, ed è questo che ci ha chiesto come educatori. Voi siete qui nella conferenza Scratch, perché sapete qual è l'importanza di imparare. E' importante affinché i bambini sentano la passione, e sviluppino le proprie abilità per andare avanti, la loro passione, il loro impegno per poter creare un movimento. E questo fa la differenza non soltanto in classe, ma in tutto il mondo. Grazie, perché voi siete parte di questa comunità Scratch. Ora, guardando il futuro, mi sento felice di poter condividere, che stiamo sviluppando nuove tecnologie, nuovi contenuti, per poter generare creatività e per poter creare una comunità con diverse organizzazioni che sono in linea con la diversità, con l'equità. Il futuro di questa fondazione è enorme, è grande, e ci aiuteremo nei nostri rapporti. Grazie mille. Vorrei adesso ringraziare anche tutti i nostri sponsors della conferenza Scratch, perché grazie al loro appoggio abbiamo potuto offrire questa conferenza in modo gratuito a tutti voi, grazie del vostro appoggio. e che tutti abbiate un grande giorno che possiate divertirvi e imparare. Grazie, grazie ancora. Grazie Team Scratch, perché avere questa agenda per quest'anno è un privilegio per me, essere con voi come sponsor della conferenza Scratch. Scratch è stata la nostra sesta edizione consecutiva per essere parte di questo evento. Scratch è parte di IPAM. Scratch è stata la fondazione e la ragione per la quale noi come azienda, come ditta, abbiamo lanciato questo programma che è IPAM Kids. Oggi IPAM Kids è in 19 paesi e ci ha aiutato a radunare le nostre comunità, i nostri bambini in tutti i paesi e in molti luoghi per poter farne di essere soltanto una. Voglio anche condividere parte dei testimoni dei nostri bimbi che hanno utilizzato questi strumenti Scratch e hanno imparato in diversi posti. Io ho imparato da Scratch in IPAM Kids come programma dove siamo volontari e abbiamo esplorato e abbiamo imparato ad usarlo. È molto facile, è molto divertente, io lo uso, per poter imparare in diverse aree di apprendimento. Io vorrei ringraziarvi tutti perché per noi è molto importante utilizzare il programma Scratch, è molto facile poter creare giochi, diapositive, è molto utile per noi e noi come bimbi imparare a utilizzare il codice Scratch. Con i programmi Scratch possiamo imparare a fare giochi, imitare, fare conversazioni e sono molto, molto interessanti. Io ho imparato a utilizzare diversi giochi di Scratch e ora ho molte idee e posso condividere con altri bimbi. Possiamo fare diversi giochi, animazioni e cose per poter imparare di più nel futuro. Scratch è un sogno fatto in realtà perché possiamo imparare, imparare a fare musica, possiamo suonare anche strumenti. Abbiamo con Scratch imparato molte cose come utilizzare codici, imparare a fare diapositive e creare anche giochi. Quindi grazie IPAM come team per essere parte di Scratch. Ho avuto molti amici che sono di altri paesi e oggi condividiamo le nostre idee con Scratch. Ho trovato buoni amici in tutto il mondo ed è una gran famiglia. Io credo che possiamo fare molte cose con lo Scratch. Scratch è un grande strumento. Grazie a tutti e spero che voi abbiate una meravigliosa conferenza quest'anno. Ciao, sono Eric. Sono Product Manager di Scratch e vorrei condividere con voi ciò che è, per chi è nuovo, che cos'è anche lo Scratch Junior. Ciao, io sono Chris Garvici e sono anche Product Manager di come Eric e è interessante essere qui con voi e essere qui presente con Scratch e Scratch Junior. Grazie per la vostra presenza. Bene. Beh, qui per darvi un'idea di ciò che è nuovo in questa comunità Scratch, dopo che voi vi unite e cominciate a partecipare con noi durante una settimana, vi invitiamo a cambiare e ad essere, diventare uno Scratcher e questo è successo durante diverso tempo, ma abbiamo aggiornato quello che voi vedete quando i lineamenti della comunità sono importanti per la nostra comunità online, pertanto abbiamo nuovi contenuti, disegni e voi potete vedere quando siete invitati per diventare degli Scratch. Vogliamo che voi siate amichevoli con tutti, che vi preoccupate della comunità e che quando accettiate anche vi daremo anche un po' di confidence, come vedete qui. Vediamo cosa avremo quest'anno. Questo è un lavoro che lo stiamo portando avanti in modo sperimentale, è un lavoro in progresso e l'idea è migliorare l'accessibilità di Scratch. Stiamo cercando nuovi colori per il blog, per fare le prove che siano più semplici, che possano essere lette in modo migliore e dobbiamo pertanto avere un miglior contrasto di colori, pertanto è un lavoro che sta avanzando e ci interessa veramente che Scratch sia più accessibile per tutti voi. E ora voglio darvi alcune idee di ciò che potremo fare tutti gli stati. Facciamo lo Scratch Camp nella nostra comunità online, è una serie di attività molto interessanti per formare squadre di apprendimento, per fare che questi team abbiano delle sfide e ci sono sempre cose nuove ogni anno, è un'esplosione di creatività dei bimbi in tutto il mondo per poter interpretare i nostri team, perché stiamo collaborando in diversi progetti, quindi è molto interessante. Questo comincia nel mese di agosto e quindi avremo alcuni aggiornamenti per tutti gli Scratchers. E ora andiamo avanti con Christine. Grazie Eric, è molto interessante vedere come abbiamo iniziato e che come stiamo lavorando in questo team dello Scratch, io parlerò dello Scratch Junior, di ciò che abbiamo come nuovo, di ciò che abbiamo fatto pure, in cui abbiamo diverse persone che rappresentano una varietà di diverse persone con diversi precedenti e backgrounds e questo è un inizio e cercheremo di espandere la biblioteca per avere più persone. Abbiamo anche diversi toni di pelle e questo per i bambini è molto importante e più facile per creare progetti di quelle persone che rappresentano la propria comunità o la propria famiglia e anche abbiamo aggiunto delle linee con diverse lingue, per ora abbiamo 22 lingue e quest'anno abbiamo aggiunto l'ucraniano e il coreano con diversi volontari che abbiamo nel mondo. Esistono anche nuove cose sulle quali lavoreremo ancora il prossimo anno, abbiamo una nuova versione di Scratch Junior sulla web e abbiamo nuovi strumenti, abbiamo strumenti diversi che saranno più accessibili a più persone, questo è da tempo che esiste, abbiamo anche la possibilità di avere più accesso ai bimbi con diversi lineamenti e i bambini che hanno certi problemi visivi possono anche partecipare. Infine, Scratch Junior e le diverse comunità abbiamo il Scratch Junior Connect per gli educatori e con questi possiamo condividere diverse risorse con gli alunni e i professori e il Junior Connect è una collaborazione fra Scratch e un gruppo di ricerca. questo è un aggiornamento di ciò che abbiamo in Scratch Junior oggi e parleremo con Marina Burst per parlare di Scratch Junior. Salve a tutti, è interessante stare con voi e poter condividere con voi questa conferenza in modo virtuale con tutto il mondo. Io sono Maria Umarci Berse, sono professoressa, direttrice del gruppo di ricerca e voglio lavorare, stiamo lavorando dal principio con Scratch Junior insieme a Miss Presley e con diverse partecipate. Scratch Junior è disegnato per bambini piccoli da 5 a 7 anni. Adesso abbiamo bambini con i quali abbiamo condiviso e ogni volta che abbiamo sviluppato nuovi giochi per i bambini voglio dire che imparando a giocare e a fare codificazioni di forma creativa la nostra missione con Scratch Junior è far sì che la codificazione in tutto il mondo sia un gioco e questo significa che è una forma aperta dove i bambini possono creare, immaginare possono cominciare a lavorare con altri bambini per poter creare progetti e far sì che questi progetti funzionino bene non solo lavorare con lo schermo ma anche giocare con immagini e tutto ciò che vedere con la loro immaginazione questa è una forma di esplorare con i propri caratteri le loro caratteristiche ed è semplice perché è disegnato per bambini piccoli ma allo stesso tempo stiamo lavorando con la web imagination per lavorare con progetti con la Scratch Junior per imparare a pensare in forma astratta e in Scratch Junior ci preoccupa che loro imparino e giochino come se fossero nell'asilo in questo modo per condividere con altri bambini e questo vogliamo che Scratch Junior sia un luogo dove esplorare ed immaginare abbiamo molti curriculum disponibili quindi possono partecipare con lo Scratch Junior Connect e revisare insieme questi gruppi di ricerca dove abbiamo il loro curriculum con diversi tipi di codificazione e giochi ogni volta che i bambini crescano diciamo hanno lo Scratch Junior e possano quindi partecipare con lo Scratch e vi chiedo che possiate visitare questa conferenza che si chiama Co-Creative Patchwork per poter esplorare e per poter fare questa transizione dallo Scratch Junior allo Scratch la filosofia è la stessa possiamo imparare giocando, disegnando e adesso il Scratch Junior a Scratch vogliamo presentare a Miss Wesley, un amico un collega che adesso condividerà con voi tutte le attualizioni di quello che sta succedendo nel gruppo di Key Debate divertitevi buon divertimento ciao a tutti sono molto emozionato di essere qui riunito con tutti voi oggi mi è sempre piaciuta questa conferenza di Scratch perché è un'esperienza favolosa per imparare soprattutto nelle forme creative in cui gli educatori in tutto il mondo stanno utilizzando Scratch da quando l'abbiamo lanciato 15 anni fa abbiamo imparato costantemente con educatori come voi che state appoggiando i giovani aiutando i giovani creando e imparando con Scratch e questo è quello che è così speciale per cominciare questa conferenza vorrei condividere una storia su un meraviglioso educatore che frivolamente con diverse forme di creare di appoggiare il focus di imparare attraverso Scratch questo è successo 4 anni fa quando ho ricevuto in marzo quando ho ricevuto una mail di un educatore di Corea il signor Dasi il messaggio di Elisia questa educatrice è arrivata dopo che Russia era entrata a invadere Ucrania il suo paese e stava solicitando un po' di aiuta chiedendo aiuta e vedere come poteva utilizzare Scratch per creare quello che lei chiamava le onde di amabilità per contrarrestare l'odio e l'aggressione che lei stava osservando in tutta Ucrania e intorno al mondo anche dopo questa mail ho avuto diverse chiamate con Alicia e attraverso si sentivano le sirene le allarmi aerei che suonavano attraverso la nostra conversazione cercando di vedere come poter far sì che si si possa espandere l'amabilità e dopo dopo dei giorni di questo slancio che abbiamo fatto con molti progetti con giovani intorno al mondo abbiamo potuto condividere la loro la sua idea di come poter espandere questa amabilità per le persone che stanno passando un cattivo momento molto per le persone in appoggio alle persone che stavano in Ucrania e infatti questo progetto non farà sì che scompaia che smetta la guerra in Ucrania ma neanche propagherà l'odio nel mondo ma questi progetti infatti possono dare più amabilità insieme a queste onde di amabilità di gentilezza e creare quindi una cultura della stessa vero? e questo quel mondo ha bisogno disperatamente oggi vorrei condividere con voi parte di una conversazione con Alicia di una settimana fa attraverso Zoom voglio condividere con voi un video di Alicia che parla della sua esperienza di Scratch e l'importanza di questa onda di gentilezza è geniale vederti ancora Alicia come sta? felice di vederti anche te Smic mi sono divertito molto con le nostre conversazioni negli ultimi mesi vorrei che tu potessi condividere con te l'esperienza di Scratch Scratch è gran parte della mia vita dal momento in cui è comparsa fino adesso mi ha permesso creare progetti insegnare a studenti poter fare ricerche nuove forme di apprendimento di insegnanza da 15 anni fa ho insegnato ai miei allievi ai miei alunni anche ai professori futuri professori di scuola elementare quale fosse questo gran progetto di Scratch c'è stato ci sono state una serie di eventi per allievi e per educatori fino a allora corsi competenze marathons eccetera e adesso in questa nuova era digitale mi piacerebbe evidenziare che Scratch è un eccellente strumento per appoggiare per dare appoggio per diffondere l'amabilità per far sì che tutti stiamo possiamo stare un po' meglio credo che Scratch possa aiutare a generare queste onde di amabilità se realmente mi è arrivato molto nel cuore quando mi hai scritto mesi fa di come tu potevi occupare Scratch per dare appoggio a queste onde di amabilità forse tu potesti riferirci a cosa significa questo noi vorremmo come esseri umani cominciare poco a poco con questa gentilezza ogni piccola azione di gentilezza può avere un impatto un impatto molto forte ma insieme tutte queste piccole azioni possono generare una onda o una cultura di gentilezza e possono aiutare a cambiare le forme in cui le persone pensano sovra il mondo e come possono interattuare le une con le altre sarebbe meraviglioso ascoltare perché credi che è così importante questo progetto nell'attualità l'amabilità è molto importante di per sé nonostante credo che sia più importante adesso in questo momento più che mai l'idea di creare una onda di amabilità gentilezza con questa situazione di fronte a questa situazione bellica di guerra nel mio paese d'origine può far sì che altre persone amabili attraverso il mondo possano dare il loro appoggio e appoggiare la causa di Ucrania dopo l'invasione di Russia così terribile questa situazione ha portato a generare nuove amabilità a creare nuove amabilità e per questo che esistono più diverse forme più forme per sviluppare una cultura più cortese più creativa più amabile essere umani con queste qualità e così poter creare una onda di creatività grazie bene il mio cuore si espande verso tutti voi in Ucrania che state affrontando tutte queste sfide è molto ispiratore per me ascoltare dei vostri sforzi e poter appoggiare all'amabilità e so che molte persone attraverso il mondo stanno facendo parte di questa idea di scratch e diverse piattaforme e questo ha attirato attenzione in tutto il mondo come ti sei sentita sulla reazione di questo progetto di onde di onde di amabilità cosa ne pensi la mia amica Elena con la sua famiglia sono dovute lasciare la loro casa il loro paese per 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 causa della guerra e vorrei appoggiarla e ho scritto un poema su una casa di carta e lo ho tradotto all'inglese e l'ho pubblicato nella nostra comunità questo ha portato ha fatto sì che ci che si sia creata una catena di retroalimentazione molto amabile molto positiva questo poema è stato tradotto al suo idioma di origine ad altri idiomi di origine e si è creato un podcast in italiano infatti Gianni di Gran Bretagna ha preso una cattura creativa un'immagine creativa di questa casa di carta in maniera molto speciale un amico Francisco di Spagna ha scritto e ha registrato infatti la sua canzone una canzone propria in spagnolo tutti volevano mettere insieme questi eventi riunire questi eventi di amabilità Geni ha creato un progetto sulla casa di carta e io ho mostrato ai miei allievi questo progetto Scratch possono invitare a tutti i bambini ucraniani e gli educatori ucraniani possono mettersi insieme appoggiare e sapere come poter occupare Scratch per espandere la gentilezza il progetto di Scratch ha unito a così tante persone diverse di diverse parti del mondo e mi sembra che sia un esempio brillante veramente di come espandere l'amabilità e facciamo sì che questo studio continui questa sì che è una storia geniale su come espandere l'amabilità con queste onde di amabilità cosa ti aspetti nel futuro di questo progetto per il futuro il mio sogno sarebbe poter organizzare qualcosa in linea o magari presenziale con campamenti per bambini campi per bambini ucraniani e bambine ucraniane e organizzare una conferenza per educatori anche per scientifici e scienziati e intorno all'amabilità alla gentilezza e al futuro dell'educazione io capisco che esistono molte sfide in questo percorso per riuscire a concretare tutti questi piani ma facciamo sì cerchiamo di far sì che questo che si possa avere un futuro di amabilità mi è piaciuto moltissimo conoscere Alicia negli ultimi mesi realmente credo che il suo lavoro le sue idee siano in linea con i valori e gli obiettivi di Scratch per me credo che i valori più importanti siano la creatività e l'amabilità spesso parliamo di come Scratch espande le opportunità di apprendimento creative e fa sì che sia possibile che le persone si possano espressare creativamente e sviluppino pensatori creativi che è così importante per il mondo adesso ma ci ricorda anche che l'amabilità è così importante come l'attività è ugualmente perché vediamo in questo modo che Scratch è una comunità amabile che si prende cura di sé in cui le persone non solo creano ma si ispirano si appoggiano l'una all'altra e imparano l'uno dell'altra e spero che oggi nella conferenza di Scratch possiate avere un compromesso certo e lavorare insieme come comunità e creare onde giganti di amabilità spero poter lavorare con tutti voi per far sì che questo succeda e con questo gli do il microfono a Carolina e a Francisco molte grazie amici grazie mille tutti possiamo creare progetti con Scratch ma bisogna anche pensare che come i progetti e le idee e i commentari facciano sentire agli altri come un ricordatorio ricordare che abbiamo vincoli legami con studi con questo spandere la gentilezza e l'amabilità incluso potete creare altri tipi di progetti stiamo sempre cercando progetti nella comunità e ci speriamo a crearli con allegria e amabilità con i diversi contrasti di colore con i diversi progetti che vediamo ci speriamo molto su ciò che possiamo creare insieme e grazie per riconoscere anche questo fatto continuamente successivamente ascolteremo come la comunità di traduttori ha occupato Scratch e anche da altri gerenti che hanno liderato gruppi team comunitari come la codificazione in Scratch e come si ha contribuito a esplorare le espansioni e anche le volontà del gioco sono molto compiaciuta di presentarvi un eccellente leader che lidera uno sforzo collettivo lei è una forza della natura ciao Francisco ciao Carolina grazie per questa eccellente presentazione sono molto emozionata oggi mi piace il tema di questo anno cosa si può che si può creare collaborativamente l'insegnamento delle Scratch è un evento di due anni che ha fatto partecipare molte organizzazioni intorno al mondo per imparare sulla codificazione e partecipano nel codisegno con altri progetti similari è una visione semplice ma potente organizzazioni che che vedono comunità isolate normalmente ma che possono superare barriere attraverso Scratch e il codico la codificazione creativa e si sono uniti per creare una comunità diversa e possono prendere quello che hanno imparato e co-disegnato e portarlo alle comunità locali per amplificare e scalare Scratch abbiamo lavorato con più di 40 dei diversi paesi come Texas Spagna Nova Scozia e il primo taglio di partecipanti ha fatto un eccellente lavoro con migliaia di studenti collaboratori attraverso il mondo la prossima settimana gli daremo il benvenuto a 91 organizzazioni ci siamo sparsi in moltissimi paesi intorno al mondo è uno sforzo molto importante questo incluirà Nuova Zelanda Cile Brasile Ucrania come anche altre città negli Stati Uniti come Memphis Stenesi San Diego in California e Phoenix in Arizona vedo che Francisco sta facendo dei gesti perché lui è di Santiago mi dà molto orgoglio di vedere come abbiamo creato queste possibilità infinite non posso più aspettare per vedere quello che i partecipanti possono creare e condividere con le comunità locali adesso voglio dare il microfono a Simon Ryan ciao I'm Ryan sono Ryan sono uno dei gerenti di moderazione della comunità di Scratch io sono Christian gerente della partecipazione della comunità e parleremo della collaborazione e delle storie ispiratrici nella comunità la collaborazione è una delle pietre fondamentali migliari in questa comunità gli studi permettono che le persone si possano riunire intorno all'interesse comune un tema per esempio quando è cominciata la quarantena i bambini hanno cominciato a creare questo studio per generare idee sugli sport che si possono fare in casa o quando eravamo in quarantena anche il cibo per esempio gli alimenti che pertenescono che appartengono alla cultura gli studenti possono trattare temi importanti per loro e questo possono essere un riflesso di quello che sta succedendo nel mondo come questo salviamo la terra per esempio inoltre dei diversi studi che si sono creati attraverso l'ombo scratch tutti i giorni in scratch abbiamo i nostri propri studi ricerche che abbiamo creato attraverso gli anni con diversi con diversi giorni con diversi giorni festivi il giorno della razza negra per esempio sono esempi per poter modellare impulsare una cittadinanza più positiva e altri ispirati alla comunità su progetti similari uno degli studi che abbiamo creato da poco è cosa significa scratch per te questo si è creato prima del nostro anniversario numero 15 e dovevano riflettere su quello che hanno creato in scratch e la risposta che abbiamo avuto è stata sorprendente perché la miglior forma è che gli scratch hanno creato progetto su tutto il tipo di temi e hanno creato storie infinitamente interessanti per noi cosa significa scratch per me è un luogo dove posso divertirmi dove posso vedere le mie creazioni attraverso la vita dandogli vita senza ricevere un giudizio di nessuno una critica di nessuno da parte di nessuno è un luogo sicuro scratch è divertente perché è un luogo per poter condividere idee scratch significa il mondo per me da quando mi sono unito per la prima volta mi è piaciuto moltissimo arrivo dalla scuola tutti i giorni ansiosa per arrivare a scratch e parlare con i miei amici in linea ed è stato un eccellente percorso fino adesso mi piace moltissimo sarai sempre in un luogo importante dentro della mia infanzia a parte tutti questi progetti incredibili quello che mi piace molto negli studi come questi è che dà capacità per poter partecipare con altri scratcher e collaborare e dare leadership un leadership a altre persone a altri leader delle comunità e tutti i nostri collaboratori sono volontari che ci aiutano a rispondere con commentari attraverso degli studi ma anche che sono importanti nello studio per la comunità che stanno partecipando in questo spazio mi dà un'ispirazione costantemente grazie per la retroalimentazione che altri danno a questo studio grazie a tutti i curatori attraverso il mondo per far sì che questo studio sia possibile una cosa geniale che vediamo attraverso gli studios o sala è che può essere più accessibile ad altri aiutando a tradurre a diversi idiomi a diverse lingue in questo in particolare abbiamo visto 25 traduzioni diverse tutte realizzate da volontari attraverso il mondo non so se tu pensi ma io Ryan mi dà molta ispirazione a vedere questo attraverso la comunità è molto ispiratore ispiratrice questa cosa parliamo per esempio dell'accettazione dell'autismo che fomenta che fa sì che si fomenti che altri possano avere raccontare le loro esperienze in questa comunità sicura per poter condividere il loro vero io e finisce anche propagando l'intendimento di diversi concetti lo studio di accettazione dell'autismo implica che tutti coloro che hanno autismo possono condividere progetti su questo tema e fare domande poter sviluppare domande su quali sono le caratteristiche di questa condizione come lo sono l'ansietà il trastorno di attenzione e credo che questo aiuti veramente le persone a diffondere sul tema dell'autismo ultimamente ho ricevuto la diagnosi e sento che ho capito di più su quello che sono io attraverso Scratch più che sulla propria vita Scratch è uno dei miei interessi principali mi piace rispondere a domande e farne altre per far sì che altri possano promuovere così l'accettazione la comprensione sull'autismo questo è veramente perfetto il mio progetto favorito adesso è il mio proprio progetto sull'autismo io sono autismo si chiama del 2009 in qualche luogo qualche storia spiega che è come un demonio che sta assorbendo i bambini ma è una perspettiva dell'autismo ovviamente non è realista che tutti fossero così positivi che tutto fosse così positivo sull'autismo noi possiamo condividere informazioni vere sugli aspetti positivi e negativi semplicemente che tutto questo sia cattivo o buono mi piace questo progetto per tutto quello che implica perché credo che la comunità abbia creato una cosa molto importante perché esiste molto appoggio ci sono molte persone geniali e credo che questo sia molto positivo nello studio perché di maniera olistica si può imparare conoscere ad altri e si comprendono si capiscono esperienze che non necessariamente abbiano altre persone degli studios che si sono diventati veramente dei veri amici e hanno potuto far sì che si possa espandere sull'autismo grazie per questa storia ispiratrice adesso passeremo il microfono alla nostra collega di stress crazy avanti buongiorno a tutti sono crazy trunk sono gerente di diffusione partecipazione per poter aiutare i bambini intorno al mondo con i bambini in diverse parti del mondo abbiamo iniziato dall'inizio dal lancio di scratch 3.0 nel 2019 siamo cresciuti da 50 lingue a 74 lingue e la quantità di lingue in scratch junior anche sta in aumento e adesso è disponibile in 22 lingue tutto questo è possibile grazie a più di mille volontari traduttori volontari intorno al mondo molti educatori genitori delle comunità locali stanno partecipando ascolteremo le esperienze di alcuni dei traduttori volontari e perché hanno deciso di tradurre le proprie lingue ascolteremo da Kristen una insegnata danese che è stata volontaria in traduzione da molti anni il mio nome è Kristen Dan Peterson io ho tradotto traduco scratch al danese io non sono sicura se sono da 9 10 anni che ho iniziato con queste traduzioni di scratch e veramente sono molto orgogliosa di dire che abbiamo un bellissimo team di traduttori cioè non è che devo fare tutto io il lavoro quando io ho iniziato a occupare scratch ho scoperto che parte del lavoro non era il meglio perché i bambini potessero programmare perché molte volte le parole che si usavano erano parole da adulti e pertanto mi sembra importante che i bambini imparino e usino lo scratch in un modo che possano davvero capire ciò che stanno facendo e non tanto di leggere terminologia specifica che loro non capiscono ma possono sempre capirla dopo quando scratch si traduce alle diverse lingue native è molto più facile perché i bambini possano capire cosa c'è di dietro della codificazione e in Danimarca parliamo diciamo che la programmazione si deve applicare e che importante è poter imparare la tecnologia particolarmente quando parliamo della scienza scratch e pertanto è un buon esempio di conoscenza e di significati applicati perché abbiamo tutto sullo schermo quando i bambini leggono i testi li vedono in azione questo è anche è una lettura applicata è una matematica applicata è di grande utilità questa in molte persone c'è questa nozione che dovrebbero essere esperti a fare questa no io non sono programmatrice assolutamente mi piace tantissimo soltanto lo scratch e questa è la ragione principale per la quale la faccio cioè io vedo che scratch ha un grande impatto sui bimbi che dall'inizio non sanno particolarmente le bimbe pensano che la programmazione non è per loro però poi ci tentano ci provano e vedono diverse possibilità su scratch e scoprono che non è poi così difficile semplicemente è un nuovo strumento e si apre un ventaglio per loro un mondo si apre il mondo su come esprimersi ascolteremo da Mr. Ken che è a Bangladesh e l'anno scorso ha fatto tradurre scratch il mio nome è Nasi Khan Shaikat e sono ingegneri in software contribuisco ma molti progetti ho lavorato per quasi 20 anni come volontario e non sono l'unico che porta avanti questi progetti abbiamo organizzato 15 persone abbiamo iniziato progetti per poter localizzare scratch la versione da scrivania cioè e poi quelle che sono in rapporto al Bengali cioè abbiamo anche aggiunto alcuni workshop per docenti e studenti per introdurre il Bengali in bengalese le istruzioni abbiamo lo spazio per poter mostrare una parola due o tre per poter esprimere il mese scorso abbiamo avuto un workshop di tre giorni con persone di diverse zone diverse scuole elementari del paese abbiamo avuto 25 insegnanti alcuni di scienze matematica inglese e alcune scuole in particolare tutti molto responsabili di poter insegnare questo corso e tutti sono stati molto riconoscenti che questo sia stato tradotto perché molti studenti di terza quarta non si sentivano comodi usando uno strumento in inglese quelli più piccini delle prime classi allora se alcuni vedono le parole in bengalese sono molto si sentono più a loro agio e possono avvicinarsi in un modo diverso innanzitutto vediamo anche che è stato tradotto all'arabo e anche si è organizzata una comunità di traduzione nello scratch al duratman ibdi originariamente originario della siria ora abito a istambul in turchia e traduco scratch all'arabo ho cominciato a usare lo scratch nel 2007 nel contesto di preparazione per una competenza di scienze informatiche che era molto importante io volevo che i bambini avvicinare i bambini alla programmazione pertanto stavo cercando qualcosa e ho cominciato a usare scratch era proprio scratch 1.2 allora ed era disponibile soltanto in 18 lingue l'arabo non era una lingua prevista quindi utilizzata quindi c'era molto appoggio per l'alfabeto occidentale quindi quando ho iniziato scratch mi è sembrato qualcosa di naturale non ho pensato tanto alle ragioni o alla filosofia che c'era di dietro veramente e le persone poi hanno domandato perché dovremmo usare lo scratch in arabo e non in inglese qual è la ragione e lì ho iniziato a sperimentare diverse ho avuto diverse esperienze con bambini in rapporto all'uguaglianza al poter accedere a scratch all'apprendimento creativo e davvero mi sembra molto rilevante con la traduzione di scratch che le lingue che si stanno che si usano quando insegniamo ai bambini come creare dentro il sistema hanno un impatto nella loro propria identità per i bambini che occupano che usano lo scratch in inglese e noi gli diamo un messaggio che dice che per poter avere maggior creatività potresti avere la versione in arabo questo e colpisce proprio come come loro vedono la cultura e tentano cercare esempi da altri paesi allora quando cominciano a vedere la versione in arabo bambini di 8 o 9 anni possiamo vedere bambini diversi non soltanto quelli che sanno l'inglese e così possono partecipare e condividere con fluidità possono parlare con i loro amici con maggior fluidità e vicinanza è stata un'ispirazione ascoltare tutte queste storie dei traduttori vorrei veramente ringraziarli tutti in tutto il mondo per il loro contributo per il loro tempo per il loro sforzo per far sì che Scratch sia presente in tante lingue per i bambini grazie mille grazie Tracy veramente sono felice di poter vederti oggi e ora avremo un po' di divertimento nella nostra seduta e parleremo un po' della nostra giornata come sarà se andate voi al sito della conferenza potete vedere l'ordine del giorno e se volete vedere qualche seduta in particolare potete partecipare lì abbiamo una chat per tutti i partecipanti per poter creare nuove sedute dal vivo e saranno anche registrate per poter averle davanti a noi e più avanti disponibili spero che voi godiate di questi incontri come consiglio guardate voi l'ordine del giorno la nostra rubrica dove avrete delle ci saranno anche delle diverse bolle dove voi potete identificare le diverse sedute e potete scegliere e se non partecipate in una seduta non importa perché potete partecipare in qualunque di queste che verranno avremo un'opportunità di dire un ciao a diversi partecipanti avremo due sedute due in inglese una in spagnola e una in portoghese e parteciperemo tutti come comunità globale e di nuovo durante le sedute utilizzeremo la chat e condivideremo tutti insieme parteciperemo dei mass media e useremo il hashtag scratch conference se utilizzate un demo o se avete domande tecniche se possiamo aiutarvi benvenuti benvenuti siano le vostre domande quindi ora è il momento per andare avanti con le diverse domande potete partecipare potete possiamo iniziare anche con lo scratch camp in agosto ricordate dove avremo diverse attività parteciperemo con tre settimane in cui avremo diverse opportunità per creare nuovi progetti e potremo godere in modo partecipativo nel camp per favore partecipate così ci sono diversi progetti ci saranno diversi studi in diverse settimane sul sito web lì avete tutta l'informazione per poter partecipare dei diversi progetti studi e per poter vedere i progetti anche se avete domande sui video perché molti di voi forse non potete rimanere tutto il giorno se non potete rimanere tutte le sedute queste saranno registrate di modo che in una settimana saranno disponibili perché voi possiate vederle sulla piattaforma quindi potrete avere accesso grazie della vostra presenza questa mattina e ricordate che potete essere qui dalle 3 pm cioè adesso andiamo avanti e cerchiamo di divertirci scratch on for the closing session so that's it let's live it up let's have fun everyone scratch on scratch on